Dopo oltre un anno dal finale della scorsa stagione, è finalmente tornata la miglior serie di Minecraft di tutti i tempi. Ebbene sì, splendori, diamo ufficialmente il benvenuto alla stagione 2 di Atabicraft. Ma chi l'ha scritto sto copione? Chi è lo stagista incompetente che l'ha fatto? Nuovi e vecchi partecipanti, nuovi e bizzarri personaggi, nuove creature decisamente strane e soprattutto una nuova ed importantissima lore. Splendori, questa volta per davvero, diamo ufficialmente il benvenuto alla quarta stagione di Pandora S&P. Serie che viene giocata in live qui su YouTube, dove in generale streamo tutti i giorni da lunedì a venerdì a partire dalle ore 7. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale per non perdere nessun contenuto live, short e video. E ora cominciamo il riassunto della mia prima caotica settimana sul server di Pandora S&P stagione 4. Dalla mente malata della rana e con il santo aiuto di Enrico, l'S&P più caotica e apprezzata dalla critica sta per tornare. Una nuova e incredibile storia, digna e erede di Morbius, con nuovi contenuti e partecipanti. Pandora 4 è appena iniziata. Pianeti, sistemi solari, galassie, universi. La storia si ripete e le cose seguono sempre il loro corso. Il principio è la fine e la fine è il principio, disse Gandhi. Quest'oggi vi racconterò una storia incredibile. Pandora, terra di costruzioni e serissima lore. Quarto round! Numerose storie incredibili, di personaggi altrettanto particolari. Lei sa che cosa sono le lacche tettoniche? E non si sa come, sono sempre riusciti a cavarsela egregiamente. Oddio! È rimasto in cazzo! Sono quadrato! Oh, ma! Sto gioco di merda, il sviluppatore di merda, cazzo lo voglio! Beh, salvo eccezioni. Il multiverso scoperto nella terza stagione ha dato vita a mondi meravigliosi. E altri in cui le cose non sono andate proprio per il verso giusto. Ma non è vero, è andato benissimo lì. Da lì sta per iniziare una nuova avventura che... Beh, è Pandora. Il resto dovreste saperlo da soli. Cavoglia, che spavento! È il mio! È il mio! Che succede? Siamo a Napoli ed è già capodanno? Ah no! Ho tutte le dita a posto! Spegni l'allarme e inizia subito la procedura! Io nel mentre sistemo quel casino! Ma che cazzo è successo, raga? Ma che cazzo sta succedendo? Mi è crashato il gioco! Ho premuto VW per fare un passo avanti e è crashato! Che inizio incredibile, raga! Ce la farà il nostro eroe a gioinare il server... Oh, io sono svenuto! Che è successo? L'escursione termica? Ah! Tu sei un pezzo di legno! Lui è Mokugi in Cruitec, guarda! Ehi, non perdete tempo! Ma lui è un pezzo di legno, non è animato! Cosa ti aspetti? Va bene così! Ok, scusa, 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 scusa! Sono un sacco di cose che non sapete! Scusi, scusa, scusa, è un ciliegio o un amareno questo albero? Allora, adesso fate silenzio! Concederò una domanda a uno di voi, uno per volta! Mettetevi in fila indiana da sinistra a destra! Spero che voi sappiate! Come funziona? Scusi, come ca... Cosa significa? Io vi ammazzo tutti per rimettere le vostre celle! Va bene, Fra! Siete qui? Perché dovete ripopolare il mondo che ha fatto una financia tremenda? Sesso? Si fa sesso! Si fa sesso! Si fa sesso! Sesso con piedi? Sesso! Elvio! C'è calentità nonne qua. Elvio, spiegalo tu per favore, che io questi li abbassano e li li metto tutti dentro. Sesso piedi? Elvio. Ora che Elvio è stato così esplicativo, se ci sono domande tenetele per voi. Avete capito sì o no? Non potete sapere cosa ho vissuto tutto questo tempo qua sotto terra per controllare voi e la vostra vita che rimanesse in colume per tutto questo tempo. Quindi cercate di comportarvi bene perché si è occupato di voi tutto questo tempo. È morto? È morto? Ah no, peccato, è vivo. Rivelia! Rivelia! Nutritevi! No! Ma me l'hanno... Ma non potete passare! Mi scusi, grazie per il pane. Cosa c'è in superficie? Adesso, la domanda più spaventosa di tutte è proprio questa. Cosa c'è in superficie? Non so se siete pronti per scoprirlo. Dovete sapere che questo prima era un mondo ricco e popolato. Ma una forza malefica si è impossessata di questo luogo. Eeeh, adesso... L'imps? Esatto, voi siete la grandissima forza maligna pimps. E adesso voi siete i pochi superstiti e dovete andare in superficie e riconquistare il mondo. Sesso piedi? Vi mostrerò come raggiungere la superficie. Vai, vai, la seguiamo, la seguiamo. No, va! Qual è la scala giusta? Dobbiamo andare su. Mi sta salendo di faccia. Il grande errore della mia vita! Ho una domanda logistica. Ma se il nostro obiettivo è ripopolare il mondo, quante persone di sesso femminile sono presenti qua sopra? Io voglio tierless. Oddio, che è sta bomba? Grazie ragazzi, grazie, gentilissimi. Ascoltate, venite con me, mi mostro dove ricostruire il mondo. Ma lì c'è un castello. Voglio vedere quello. Lui. Adesso. Ora. Ma quello chi è? Ma quello si chiama palesemente Ugo. Questo è palesemente il signor Ugo. Salve Ugo! Non gli sputi! Che schifo Ugo. Ma poverino! In popolanno c'è Ugo. Tedia, in Pandora la lava non fa danno se vuoi andarci dentro. Ma veramente? Che carini! No, 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 no. No! No, professore! 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 No, professore! Il professore è diventato un sitiano! Hai finito la loro? Ehm... Ma sai che la loro di battaglia? No, è vivo, è vivo! È immortale! No, no! È vivo, le scopre! Hai morto il mio! No! E vabbè, raga... Si comincia già col disagio. Devo assolutamente abbassare il volume a sedia, comunque. Aho! Ma io che c'entro? Ehmio! Che succede? Che è successo? Tutto bene, Quasimodo? Ehmio! Abbiamo disinvernato dei deficienti, cazzo! Ma scusate, perché eravamo invernati in primo luogo? Che succede? Dica. A palesemente è tirato un porcone, l'ho sentito il porcone. Ragazzi, dovete sapere che qui c'è stata una grandissima forza maligna che ha colpito questa terra. E infatti siamo protetti da delle mura! Siete in pochi sopravvissuti alla guerra, all'attacco, alla distruzione di massa che c'è stata! Prima di tutto questo... La tachipirina! Dovete sapere che qui, prima o poi, questa forza maligna potrebbe tornare da un momento all'altro. E dobbiamo prepararci, dobbiamo collaborare, gioiosamente. Non ha senso che vi picchiate e vi sputate l'un l'altro, perché ognuno di voi dovrà fare la... Ma è diventato... Ma è diventato... Adesso, vi mettete in fila un'altra volta e vi presentate e dite il vostro nome come dei bravi... Io ti ammazzo, io adesso ti ammazzo! Io ti stacco la fila dorsale e poi la faccio mangiare con gli amici, hai capito? Uno per volta, andate a destra e dite il vostro nome. Io sono Fango17, il comandante della Tabicraft. Bravo, vai, mettiti là, mettiti qua. Io sono Chesi, sono pulito da un anno e quattro mesi. Ah, Chesi! Poi ci sarà solo per due episodi, poi non lo vediamo più. Ah, sto già male, non mi uccidere! Allora, noi siamo... Sei domestico? E' un Gioi Gianni, piacere. Io, ragazzi, sono l'ololol. Sto male, ho un cuore, sto male. GAMING. Io sono Ahmed. No, è il mio. Beh, Ahmed. Beh, per favore, sto male. Vengo gli altri bambini, chi è il prossimo? Eh, io sono di Sultano, Scecchentano, Tano, Sultano. Elvio, ma questo quando l'abbiamo preso... Guarda, ma che sputo incredibile. Piacere, ossicino. Elvio, che cos'è? Ossicino. Piacere, Eren, mi intendo di Mura, ma non so cosa siano queste. Ma che schifo era. Io sono Muso, molto paura di stare qui, ok? Va bene, Muso, mettiti insieme agli altri bambini. Piacere, mi chiamo Emerald. Anche io mi intendo di Mura. Se c'è qualcuno che vi sta sulle palle, me lo dite e ce lo ficco dentro. Bella. Ciao, Raj è S, 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 S. Elvio, sei impallato. Sono io. Mi siete sconti? Sono rimasto chiuso nella cella. No, un'arena, che schifo. Via, lana. Sputateli, sputateli. Sono rimasto a chiamare. Poverino. Sono un UFO. Io non mi sono ancora presentato. Non mi sono... Sanno tutti chi... No, ma Pantola 5? La mia è una domanda legittima. Non penso serva altra lore? Posso cominciare a farmi i cazzi miei? Vabbè. Volendo potrei fare sesso anche con loro. Ok, lo prendo come un obro. Chi è che mi sta parlando? Oh no, oh no, è lui. È il re della Tabicraft. I pulcini! I pulci... Uccidi i pulcini. Ammazza i pulcini. Allora, lato positivo, qui è pieno di animali. Lato negativo, ora verranno uccisi da qualcun altro che verranno nella mia stessa direzione. Non ho ben capito perché ci sia quel muro. Evidentemente è per proteggerci da il maligno. Tu cosa sei, scusami? Non ti ho mai visto? Ma sei un furetto! Ne voglio dodici! Ne voglio dodici! Lo prendi il grano, Fra? Cosa mangi tu? Grano, seme, mangi il seme. Vuoi il seme? Non mangio il seme. Cacchio! Ma che belli sono! Ma io li voglio tutti con me. Ma che carine! Piripiri piripi... Piripiri... 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 Piripipi... 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 Vorresti un riassunto? Fra, lo vorrei anch'io un riassunto. Sappi che sono confusissimo. Direi di cominciare un attimino da soli poi magari andiamo a unirci a qualcun altro per andare sottoterra. Tearless Raptor. L'uomo che si innamorò di un animaletto ma allo stesso tempo decise di far fuori tre quarti della fauna locale. È inutile dire ah sì ma io amo tutti gli animali. Non è vero! Non è vero! Guarda me! Dei furetti mi sono innamorato immediatamente. Però sto sterminando praticamente tutta quanta la popolazione suina dell'intero mondo di Pandora 4. Non è vero che tutti gli animali sono uguali. E se dovessero esserlo? Alcuni sono più uguali di altri. Ah il castello! È vero il castello! Chat! Top reminder! Perdonatemi raga. Per la scienza. Cosa droppi tu? Piume. Ok. Mi sento un bastardo ad averlo fatto. Allora. Per la scienza. Vi giuro che lo faccio solo e unicamente per la scienza. Il muro si può rompere. Ma noi questo non lo diremo a nessuno. Perché voglio evitare che poi la pandorica mafia venga a cercarmi e mi faccia fuori. Però ricordiamocelo perché è un buon modo per tentare la fuga in caso dovessimo trovarci in situazioni brutte. Chissà se ci sono delle brecce in giro qua e là. No no raga il muro non lo faccio esplodere non lo faccio esplodere perché mi hanno detto che serve per contenerci al sicuro all'interno di questo posto. Io non mi metto a uscire. Scemo. Aspetta ma era era uno skeleton illager? Oh! Pesta di cazzo! Ok forse non sono pronto per questo posto eh comunque. It is a bit too soon man. Cos'è questa piccola? Non è niente! Mi ha tirato un boomerang! Mi ha lanciato un boomerang! Via! 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 Che è quella roba? In che senso piazzabile la gunpowder? Questa cosa è bellissima. No chi è l'animale? Chi è lo stronzo che ha passato di qua e ha tirato via giusto un paio di pezzi di tronco ma ne ha tirato giù il resto? Chi è l'animale? Io vi vengo a cercare vi strangolo. Che pace che beatitudine che tranquillitate Dai cazzo! Quanto deve salire ancora sto coso? Mamma mia che rotatura di scatole ho No ma per il castello non siamo ancora pronti regà Come facciamo ad andare al castello se già qua ci stavano aprendo in quattro ed erano due stronzetti a caso eh Ui! Ma ragazzi ma è proprio lui! È uno sconiglio! Bro! Lo vuoi il seme? Bro ti interessa il seme? Ci vuole il piccolo! Prendi il seme? Prendi il seme? Prendi il seme? Non prendono il mio seme? Eh vabbè Bro schicelai con me? Buonissimo! Buona giornata frate! Salve bro! Ma io ti lascio lì è stato un piacere conoscerti Che dite? Ci riavviciniamo al centro e cerchiamo qualcuno con cui andare in caverna aia armarci un pochettino no? Perché sarebbe brutto rimanere qui da soli Che ne pensa lei signor Orso? Come dice? Ha detto a tutti quanti di smasciare like e iscriversi al canale? Ma grazie! Molto gentile! Addirittura di abbonarsi Vabbè ma quello è un po' troppo Il like e l'iscrizione capisco che li vuole chiedere L'abbonamento se vogliono farlo giusto giusto Non ho idea di che ruolo avrò Sappiate semplicemente che mi sono innamorato di tutti quanti gli animaletti che ci sono Oh mio Dio! Ne voglio dodici Fra La vuoi una bistecca? Cosa mangiano le lontre? Tieni una bistecca? C'è un pesce in giro Un pesce Un pesce Un pesce Sta già mangiando dei pesci Che carino Che carino Guardalo Guardalo che attacca i pesci Guardalo che carino Io sto amando tutto quello che i miei occhi stanno vedendo Se ci sono tutti questi animali bellissimi io prima o poi apro uno zoo Lo zoo sarà il nuovo museo dei blocchi Aggiudicato Ho bisogno di persone E tu? Una bellissima shieldcrater Che belle che sono le tartarughe E che belli che sono i lumi in tedesco degli animali Che tipo shieldcrater non ricordo esattamente cosa significhi ma è una roba come lucertola con lo scudo Ora girerò un po' a caso per vedere se riesco a trovare Gente c'è gente! No è legno è legno è legno Scappa Ti ammazzo la famiglia Ti ammazzo la famiglia Io in fiera Salve Abbiamo trovato il centro della nostra città Oh my god It's Andrea from Beautiful Ugo Ugo salve Alla faccia del cazzo Però guarda quante cose belle Possiamo fare l'impasto della pizza Possiamo prendere le fragole Possiamo fare le pentole Voglio fare uno zoo culinario Dove praticamente abbiamo una mostra di animali E alla fine di questa mostra Tu scegli quale vuoi mangiare E te lo preparo Comunque Vedo che in questa A parte che Ecco Dimenticavo una cosa Aha Allora Sono pronto a scommettere 20 euro Che se andiamo al castello Ci sono Simo ed Eme Che traiardano Anche 200 euro Sono pronte a scommettere Mi raccomando ragazzi Non scommettete Che fa male L'autopatia è una cosa pessima E nessuno Uno Uno Amici What the fuck Che cazzo è quella roba Salve Posso entrare Beh Ti devo dire Ti devo dire Ti devo dire Not bad Uh Bottolo Benchanting Merda Vieni da papà immediatamente Ma io forse dovrei esplorarlo con calma In compagnia di gente Guarda Prendo giusto lui Questa Questa che faccio saltare in aria qualcuno Per il meme Il trono Le uniche spade che accetto Sono quelle dentro il mio deretano Pensavo nel braccio La spada nel braccio È una citazione che non colgo Sarò sincero Ed è meglio così Buonasera Salve Simo no Divin Divin Versione pigra Ma tu Tu hai una spada Io non ho trovato una spada Ah Io Quindi ognuno ha il suo loot Sì Scusa Cos'è successo Mi hai fatto malissimo Aspetta ma che cazzo Ho premuto il tasto destro E ha fatto cose Ha dei poteri strani Non sto capendo Ma che cazzo Mi sei spezzato a metà uno zombie Che senso Ma tu c'hai Perché c'hai l'elmetto tu Perché era nella chest Ma tu senti tutto sto casino Ti ha Sì sì Ci sono un botto di zombie Io prima sono andato qua sotto E sono morto Ci sono delle segrete Vorresti darmi una mano Guarda Se riesco a farmi un armor full Volentieri Guarda posso darti Un elmetto E dei piedini di ferro No l'elmetto ce l'ho Ma preferisco quello in chainmail È più È più fresco Aia Non so se è lui o te Ma mi sono fatto Sto morendo Forse è colpa mia Hai una spada un po' più Ok Non la uso più Non la tocco Comunque Tiar Sono stato sulle mura Sulle mura sei già stato Ho guardato oltre E ho visto il mondo Che ci aspetta là fuori Fra Che cosa incredibilmente deep Come ti sembra Ti sembra colmo di maligno In realtà mi sembra Bastanza simile a quello interno La malignità Non so dove Magari è ancora più all'esterno C'è un problema Non devo spaccare lo spawner Sono usciti dei fantasmi Sì mamma Che micchia Io farei così Bella idea Fra ma questo Guarda Usa pure la tua spada super Però mi allontano tipo 5 metri Urca Eh ma che cazzo di spada hai trovato Ha un'abilità che si chiama Launch Area Slash È come se io saltassi Tipo colpissi tutti attorno Scusa Scusa Non è così bello Me ne vado via tantissimo Ah 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 Aia Ma che è Non lo so Si spezzano Alcuni si spezzano Aia Simo 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 alzami Simo tirami su Simo Eh lo so Lo so lo vedo Ok Che culo Sai che il castello è andato No 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 Lo recuperiamo Tranquillo Permesso C'è un lama col fez E i baffi Ma qua ci sono dei piccolissimi lama Con la pipa Oh no è proprio lui No cc cacca Cosa dice Ma Ma che cazzo Sono io ragazzi Sono io e me la serpente Spriete un desiderio E io ne so dirò Smash a like e iscriviti al canale Altro desiderio ragazzi Voglio allungare il mio pene Almeno come Quanto tempo E allora Attaccati dietro Sarò io il tuo nuovo pene Ma che Guarda come impenno Guarda come si erige la fatica Mamma mia Non ho altri 5 litri di sangue Fa la ola il tuo pene Simo È felice di vedere Il mio pene è felicissimo Jumpy deck Andiamo Ciao Eme Addio Dai cala l'acqua Cala l'acqua Oh Sibo Alambicco C'è una pozione di night vision Che adesso non serve più E una di weakness Io ne ho una di strength E una di jump boost Frate Non dirmi che non ti ho colpito No no mi hai colpito Mi hai colpito Era proprio quella La mia lamentela Allora Vi devo dire una cosa Dica Non me l'aspettavo Sì sì siamo assolutamente amici Marcus Lui è Marcus Guardate Ora anche io sono Marcus The fuck C'era una tortura medievale Fatta così Praticamente Non medievale Prendevano un toro Ci mettevano dentro le persone E poi lo cuocevano Chiamava toro seduto Sì Oh cavoli Marcus non ti sedere Ma io non lo so Le gambe fuoriescono dal Vabbè Ognuno si incasta come può È un piatto di lui È normale Ah ok Simo Non vorrei dirtelo Ma mi sa che non è Non conviene Tanto esplorare le segrete È più fattibile No è vero Lo lasciamo a qualcun altro Vabbè Non penso di poter più far molto Io vagherò Alla ricerca di uno scopo Nella mia vita Ha detto scopo Che animali ci sono qua Abbiamo dei maiali Abbiamo dei cavalli Abbiamo dei maiali Abbiamo dei maiali Dei cavalli E laggiù C'è un to Come riavvio tra 5 secondi Evabs Pane 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 e patate Ferro Pane e smeraldo Patate Arrivederci Scoiattolo Tu sei uno scoiattolo incredibilmente Cionmc Tu cosa sei? Mi sa che erano delle urne di qualcuno Fra ma sono le tombe Bellissimo Grazie per il tuo supporto Ely Page Prego I guess Ma tu sei un cippino Con sopra un cippino Ancora più cippino Ma sei bellissimo C'è già un edificio Qualcuno sta già costruendo roba Ma guarda che carini Che patate Quello è Leo Che cos'è quella roba? Hello Oddio pelato Salve no Volevo chiedere Di chi è questa casetta In lavorazione Che bella merda frate Ma vaffanculo va Questa è che roba Muso 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 C'è qualcosa da dirmi Fate molta attenzione tutti quanti Ma in realtà stiamo tranquilli no? Grazie arrivederci Ma che carini gli uccelli Vero? Wow Vieni cippo No 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 è l'amico L'amico No è l'amico Nessuno può avere animaletti amici Non so che tipo di casa fare però Perché non ho ben pensato a uno stile No Un'architettura speciale Specifica particolare Idea Fai una casa sferica che sporge per metà dal terreno Poi sotto terra dove non si vede ci fai un'altra palla in orizzontale tra le due un pipo Così nessuno saprà perché è sotto l'erba Una fallo casa dici? Qua fai la casa uno che è un testicolo Qua fai la casa due che è il secondo testicolo E al centro fai a mettere la casa con tanto di tettuccio Secondo me la potremmo fare così la casa Che ne pensate? Dai vada per la pipo casa Molto maturo ragazzi Molto maturi In effetti avrebbe senso farla di dark oak No? Perché oak Dark oak Dark oak Dercook Il cazzo no? Io penso al povero Mirko che ogni volta deve guardare queste cose E sorbirsi la mia totale pirlaggine Povero uomo Un po' mi spiace per lui Però si diverta Il ponte lo posso fare tipo con una serie di blocchi sparsi di lana bianca Che mi connettono tipo dai piani alti della torre centrale fino laggiù Per fare a mo' di parkour no? Così è anche una bella sfida Sono indeciso sul da farsi Perché concettualmente mi piace Una volta vista temo sia troppo piccolina poi Non lo so Inizio a pensare che la pipo casa sia un progetto troppo complicato affinché possa rendere bene Ho bisogno di una consulenza Don Berro? Sì? Venga con me Perché magari lei può darmi una prospettiva completamente diversa sulla faccenda Praticamente non so se hai notato ma in questo mondo In questa landa ci sono moltissime creaturine mai viste prima d'ora quantomeno da me Quindi vuole fare un santuario per glorificare gli animali Esattamente Ok Vorrei rappresentare questa casa, questo santuario In maniera tale da tipo descrivere il mondo come due sfere diverse Gli umani e gli animali E creare un ponte per unirli E elevare questa collaborazione Questo insieme di vita Io so che lei vuole andare a parlare da qualche parte Ma la seguo veramente ogni centimetro No, 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 ci siamo quasi Quindi io le stavo chiedendo Ma secondo lei Le palle del cazzo che voglio costruire come casa Sì Dovrei farle più grosse Dovrei farle più grosse Secondo lei Diceva le palle Come i testicoli Sì, sì Dovrei farle più grandi Mi ha sicuro Come se la dimensione delle palle secondo lei è adatta O è un po' clamidica la situazione Sta iniziando proprio dalle palle Sì, si vede Quello lei Sono i testicoli Esco tipo quegli Capito? Esatto Ma no, secondo me Insomma è appropriato Alla dimensione Sì Ma se no potrebbe anche Eventualmente utilizzare l'idea Che il membro di per sé Sia un membro a riposo Ed esso stesso appoggiandosi Sulle rive del coso Qua da ponte Insomma non bisogna sempre essere duri E rigidi nella vita A volte bisogna apprendere le cose Con più delicatezza Esatto O anche addirittura rappresentare Il momento subito posto Mettendo tipo il cappellozzo Che proprio si adagia dolcemente al fiume Come a dire Che tutto il prodotto Tutto il liquido Ma lei è un genio Potrei costruirlo sul muro A testa in giù Con la punta È da un sacco di tempo Che mi alleno Con le cascate della prosperità Le famose cascate della prosperità Effettivamente le avevo dimenticate Ecco Vedi Allora ho chiesto un parere esperto Vedi È tutto in famiglia Insomma Sì sì Va bene Vado a cercare anche l'architetto Vedo cosa mi dice Io faccio la guardia alle palle Grazie Arrivederci Ah Simo ha già staccato Anche Leo È problematica sta cosa In effetti Bro Qualcuno mi ha già rubato l'idea Ma che cazzo Letteralmente che cazzo Cazzo palle casa Di Tearless Raptor Ma Se Facessi Le due sfere Ai lati Della torre centrale Con i blocchi d'oro Per simboleggiare il fatto Che il piscio Stia nelle palle Cosa ne pensate Artisticamente Avrebbe senso No Ok Io sono sotto le mura In questo momento Le mura Arrivano a toccare Anche il sottosuolo Oppure c'è il rischio Che io le superi Perché non vorrei superarle Perché uscendo dalla lore Nova mi ammazza Cioè Detto sinceramente Frate ma che cazzo Sto vedendo Ora mi ci avvicino Perché sono curioso Ciccio Il culo Ah è il guardiano Delle mura Dite Eh però Sia ancora là Un giorno vorrei batterlo Ed è sponato Benissimo Chissà quanto in giù Posso andare Troveremo dei diamanti Spero di trovarmi Dei diamanti Così magari Enchantiamo qualcosì Ho visto un fungo rosa È pieno di funghi rosa E tu che cazzo No No Non mi ci spingere No La tartaruga del fierro Che cazzo Che cazzo è Che cazzo è Che cazzo è Mollami Mollami Posso manco urlare Tardissimo Pado mi sono cacato Vaffanculo I miei vicini Deve non ringraziare Che ho avuto Un buon autocontrollo In questo momento Non so se risalire Basta a sto punto Però no dai Voglio uscire dalla cave Dopo aver trovato Almeno abbastanza diamanti Da fare Un enchanting table Ci provo Vabbè mi sono cacato Addosso per niente Prima quindi Va bene Ah no È un amico Bro scusa se ho ucciso Tuo fratello Pensavo fossi uno stronzo Guardi vi giuro Non esco dalla cave Finché non trovo diamanti E tu? Perché c'è una casa Così in basso Sottoterra? Cavernicolo il bro Fast gallop Posso enchantare I cavalli Cosa è incredibile Shockwave 1 bang Allora Tu sei un gran risparmio Su quello che stavo cercando Bounce 3 Amici miei Tutto il momento Di tornare a casetta Quanto farebbe ridere Se io in questo momento Mi trovassi esattamente Sotto le mura? No Sono in acqua E non posso uscire Bene Mi like the very much Ah no Sono arrivato alle mura Sono fuori dalle mura Sono fuori dalle mura Sono fuori dalle mura Ma cazzo Rientra rientra Io ho assaggiato il maligno Marò Brutta esperienza Brutta esperienza 0 su 10 Would not recommend Ora Domanda importante Dov'è il mio cazzo? È lì il mio cazzo con le palle Ah ma non ero così distante alla fine Fico Posso dire una cosa fanni adesso? Posso farlo? Io lo faccio Siamo usciti dalle mura E abbiamo visto cosa c'è oltre Ragazzi ci sta il mare fuori Very very funny scusate Fammi fare un binocchio Benissimo Grazie per il binocchio Perché questa cosa qua Ci è stata detta da nova Ossia che il binocchio Teoricamente ora Ha una funzione in più Oltre a Che ne so Zoomare in cima alle mura Allora dovessimo essere curiosi Ci permette anche Di farci i cazzi Delle creature attorno a noi Ad esempio Laggiù abbiamo Un cavallo Ok Quello è un cavallo Se noi premiamo Vedete che in alto a sinistra Mi dice esattamente Cosa sto guardando Ora è tall grass Ora sono dei Weathered cat Copper slab Che ne so Lì abbiamo La tall grass Ancora Lì abbiamo la zucca È una figata Tipo loro Cosa sono? Sono dei little greb Pelilor Dei piccoli grebbi Nova Inizialmente Ci aveva dato Come zona In cui costruire cose Un cerchio Abbastanza ampio Grande Quasi quanto Tutte quante le mura Ci ha scritto Al termine della live Dell'altro giorno Di metterci un po' più vicini Quindi mi dovrò avvicinare Al centro Perciò le gigapalle Che ho costruito ora Dovranno essere abbattute E spostate Più centralmente Ecco In zona molto più centrale Scusi Ho visto qualcosa Lì in mezzo Alle fresche frasche Ti faccia vedere La vedo lì Nei ciuffi d'erba Inutile che si nasconde Ho vista Adesso ti scaricherò Tutti i miei rattata Adosso Oh no In che senso i rattata Stavo scherzando Ah Ho capito Ma questa è casa mia Che ci fa Sto controllando Le varie specie Che vivono in questa zona Ma come Ma sono io quello Che controlla le specie Che vivono in giro Nelle zone Sono io l'esperto Di animali Sono il dottor Giancorino Salve Io sono Sono un pelato La lascio esplorare Così io stavo Rompendo le palle Della mia cazzo casa Che dovrò spostare Più vicino al centro Su ordine del Del re umido A cosa? Io ci sono stato Dietro le mura Sa? Non c'è la libertà Ci sono i pirati Che le sparano Fuori dalle mura C'è il maligno Là fuori Allora perché mi hanno sparato? Perché vuol dire Che siamo noi il male Perché pensavano che noi Fossimo il male Cioè Chiuso qui dentro Come esperimenti Siamo un esperimento Dobbiamo liberarci Da qui Troveremo il modo Dottor Non mi ricordo il nome Scusi Giancolini Dottor Giancolini Troveremo il modo Glielo giuro Va bene La lascio lavorare Continui a cercare Una fuga dalle mura Mi raccomando Non si faccia sgamare Il dottor Giancolini Sembra Sembra tanto Uno di quei tizi folli Che dicono Ah no Oltre le mura C'è il bene Non il male È il governo Che ci controlla Sembra uno di quelli Che crede A qualsiasi tipo Di cospirazione Magari pensa pure Che il mondo di Minecraft Sia piatto È stupido Ah Ma che cazzo è Cos'è quella roba lì L'ho vista Ma è proprio lui Ma è Rolando Mandragora Ma è il centrocampista Della Della Fiorentina Ok Signor Mandragora Salve Ma che cacchio Posso tenerlo come amico Bravo Rolando Aspetta Aspetta Sta zitto Mamma mia Già lo sto odiando Che idea di merda Lo metterò in casa Prendi qua la Anvil Rinominalo Dove sono le name tag Ne ho una in mano Rolando Va che bellino Rolando Sta zitto Lo dovrò studiare Lo dovrò analizzare Lo metterò in un eventuale laboratorio No ma che troppo rumore Guarda Già non ne fa più Signori è giunto il momento Di decidere Io comunque continuo a essere confuso Da quello che è successo Negli ultimi dieci minuti Però ok No la mia barca La mia barca Perché si muove da sola Rolando Dove vai? Devi stare qui Con me Capito? Brutto Coglionazzo Sta fermo E zitto Non mi aspettavo Che fosse pure in grado Di muoversi da solo Sì sì Non avere paura Tranquillo Dove scappi? Torna indietro Torna indietro Rolando Non vale Non funziona così Devi farti inscatolare Perfetto Perché spinna in tondo? Tutto mi aspettavo Ma non una creatura In grado di controllare Una barca Parli ancora? Lo prendo come un sì Allora No Mo si sta facendo una sega Qua sotto Questo Fra Ti sei fatto una sega Per quello stavi dicendo Yuppi 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 Che schifo Ho sburato nella barca La sburagola No raga Ma io questa cosa qua Mi fa venire gli incubi Che cazzo sta succedendo? Scusate cosa? Mi scusi Chi è? Ah Fa malissimo Yuppi Yuppi Eri tu che facevi quel casino quindi Dite che ha sburato così tanto Che ha creato addirittura Un animaletto di sbugba Tutto per sé Per tenergli compagnia Ma no Rolando Che vita triste Vabbè Chiudiamolo là dentro Ma quindi c'è La sbura delle mandragole Che fa questo verso qua No Lì stanno facendo il sesso Yuppi Va bene Signora Lontra Lei non sta sentendo niente Vero? Prosegua dritto di là C'è la libertà là fuori Signori È giunto il momento Di andare a craftare O meglio costruire Delle palle Chi è quel coso lassù? Ah Il signor Ossicino Yuppi 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 Hello Hello Salve Ma si faccia vedere in faccia? No ok Non c'è somiglianza Buonasera Buonasera Volevo fare una domanda Vedo che lei Se la cava molto Con le costruzioni Quindi non vorrei rovinarle Lo scenario ma Vedi io sto costruendo Un edificio Dalla forma fallica Ah l'ho vista La casa palle Esattamente Per ora c'è nonostante Le palle Ma me le han fatte spostare È un problema Se le sposto qui Accanto a lei Su questa collina O preferisce Che me ne vada altrove No no è un piacere Perfetto La casa palle Va bene Allora avrà la casa palle Accanto a questo Meraviglioso monumento Mi spiace Se glielo rovino Però No no Tanto di palle Ne abbiamo Ah beh vedi Allora ne aggiungiamo Altre due Va bene Scusi se l'ho disturbata La lascio fare Arrivederci Arrivederla Come stanno qua Gli amici della sbugba Stanno benissimo Gli amici della sbugba L'urlo che ha cacciato Guardando lo scheletro Mi ha spezzato Cos'è questo cosa di preciso Lui è un rake Ah Tipo Tipo rage Però rake No mi serve Molto più legno Se questa è la dimensione Di una palla Mi serve Molto più legno Potrei scortecciarlo A blocchi alterni Qua e là Giusto per aggiungere Un po' di texture E che ne so Dare una sensazione Di grinsosità A questa sfera Del drago Non so Se il pipo in questione Sarà circonciso Oppure no Forse no Perché se vogliamo Non è che rappresenti Proprio la natura Un pipo circonciso Però Falve Sono un ferpente mafico E primo un defiderio E io lo rifaudirò Mi può fare una pompa Io Veramente Guardi Le darei pure il mio portafoglio Quasi qua Se vuole dropparlo Io lo raccolgo Aspetta che in questo posto Mi fa fare veramente strane Signor Emerald Salve È bella bro Bro Quanto tempo Che si dice Tutto bene Sta a posto? Sì Mi fa piacere Dove si è stanziato lei? Io Vedi quella struttura In via di costruzione Quella mezza di vetro Sì Dovrebbe essere quella Ok Io invece sto Sto spostando il cazzo E le palle di qua Perché laggiù erano troppo distanti Come? Non sto capendo Ah Vedi La mia casa Avrà una forma Che potrebbe anche sembrare un fallo Ma le spiego la ragione Io Girando per queste lande Mi sono un attimino Innamorato Del mondo degli animali Non nel senso che voglio farci sesso Cioè non con tutti Con alcuni Ma La mia idea È quella di costruire un edificio Simbolico Per riunire E mettere diciamo Insieme Simbolicamente Il gruppo degli esseri umani E il gruppo degli animali Unirli E elevare quindi questa relazione Verso il cielo No? Quindi hai il gruppo Degli umani Il gruppo degli animali Che sono le due palle E l'elevazione verso il cielo Simbolicamente Che è il cazzo Quindi quello è un testicolo Perfettamente tondo Arrivederci Arrivederci Salve Sono un ferpente mavico Allora sta pompa Riesco a capire se ha perso Mi faccio parlare Scusi 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 Salve Sono un ferpente mavico Riesco a non fare le chest E capire se ha perso un oggetto E io potrò farlo riapparire No frate Mmm Sì Odore di palle Ha perso per caso un alvetto? Mi viene da pensare di sì Mmm Cosa mi ha inculato lei? Io non ho preso nulla Lei il signore Emerald è in quel senso Chi? Il signore Emerald Chi caffo è questo? Era un tizio che fino a poco fa stava qua attorno Faceva cose Figuramente un fallito Ma sicuro quello Comunque Pone un ferpente mavico Vuoi esprimere un defiderio per far riapparire un oggetto? Sì potrei far riapparire l'oggetto Quanto devo pagarla? Uno Smeraldo Maledetto Serpente Succhia Cazzi che manco di succhia I cazzi Tenga Grazie Mi rimandi dietro il signore Emerald Quale oggetto vorrebbe far apparire? Quello che mi è stato rubato dal signore Emerald Felleno mi dice L'ovvetto rubato Io non posso farlo riapparire Ma allora posso riavere lo smeraldo? Quale smeraldo? Mi ridia lo smeraldo Quello che le ho appena dato Falve Fuori un ferpente mavico E primo un defiderio E io lo infondirò Eh seme Ridami il mio oggetto Il mio smeraldo Ridami il mio oggetto Lo mio smeraldo Allora senti Mi sono appena identificato di una femmina Fai attenzione Ok Ti denuncio Ti denuncio LGPQ Per costi mi puoi denunciare a prescindere Io non faccio distinzioni di genere Hai capito? Lei verrà arrestato Vabbè fa bene Peste violenza Ah aspetti aspetti Può far tornare il serpente? Ok salve Devo capire Fa un serpente mavico Devo capire se posso ipnotizzarlo Venga qua Fammi riapparire il cazzo di oggetto stronzo Attendere in linea Falve Falve Falva nella taffia La fo buttare Ho sbagliato Aspetta Falve Un serpente magico Si serpente magico Qua qualcuno Mi ha scammato degli oggetti Dalle chest Potrebbe gentilmente Restituire Sia lo smeraldo Visto che lei È un incompetente Che l'oggetto Che mi è stato rubato Mi faccia annuffare la festa No no Non annusi più un cazzo lei Affin Lo sento Qui è stato rubato qualco fa Che cosa? Un piccone Un piccone No il piccone in diamante Un piccone Vuole per caso un altro Posso farlo apparire Sì per quanto Sentiamo Il meglio che posso fare È tre mele Il meglio che posso fare È tre mele Vanno bene in fimo tre mele Tenga tre mele Aspetti un attimo Come cazzo le tiri in mano le mele? Wow Grazie mille Incredibile Ma via completata Grazie mille Vado per la nostra strada Grazie per aver utilizzato Il servizio Serpente magico La preghiamo di lasciare Una review Almeno 5 stelle Grazie E arrivederci Sì ma dove la lascio la review io? Dove la lascio? Vabbè Farò una bacheca Su cui scriverò la mia recensione Ciao Dierla Come stai? Tutto benissimo Buona quella mela Dove l'ha presa? Dove l'ha raccolta? Guarda Ho fatto un primo desiderio In cambio di quattro smeraldi Ognuno tre mele Da un serpente magico Incredibile Non vedo l'ora Che arrivi Simo A guardare la casa E dirmi Tiare ma che cazzo stai facendo? E io Ah ah un cazzo E poi Simo Starà in silenzio Completamente allibito Devastato da questa notizia Mentre io checcherò Come un ladro Sto proprio lì a ghignarmela E Simo fa Mandre ma c'hai trent'anni Per favore Quindi Palle del cazzo effettuate Costruite e buildate Devo ora dare un inizio Alla torre Buonasera Sapevo che mi stava cercando Per la costruzione Di un enorme fallo Sì eccomi Salve sono proprio io Vede queste qua Sono le palle Sì 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 Ah ok Ma il colore delle palle È dato alla peluria No no Semplicemente Diciamo che l'ispirazione È quella di una persona Che si è cacasburrata Nella bandalogna E quindi tutto Ha preso un po' Lo stesso colore Cos'è che volevi Cioè che consulenza volevi No no Secondo lei Le palle sono troppo tonde Posso dare un occhiata? Le palle dovrebbero essere Un po' più ovali Ma è più riavvicinata Ti porterò in un posto segreto Ti farò vedere Cos'è successo Sì ma ho avuto un attacco epilettico Allora Per dieci smeraldi Mi trasformo in un vibratore Non ce li ho Altrimenti avrei pagato Vabbè sì no Comunque ci sta Però dovresti continuare Con questo legno O sennò fai una bella Sfumatura di legni Bella l'idea Della sfumatura di legni Mi piace no Che pian piano Tipo passa da dark oak A oak normale no E secondo me Se utilizzi delle liane Ok Come rugosità Per fare le venature Potrebbe avere senso Forse dell'ichene Che si vede un po' meno Ma c'è No Simo ti devo portare Da tutt'altra parte Però per farti vedere Come ho ottenuto questo Come testa di minchia Come testa di minchia È lui Ma si chiama davvero testa di minchia Ma poverino È dietro di te Ah ciao testa Buonasì Ma è Tearless Raptor Va bene va bene Spero che siamo tutti Ora si ora si Dovete sapere che io Elvio e Birillo Siamo degli inventori Siamo degli scienziati Siamo degli uomini di grande sapere E abbiamo creato un nuovo oggetto Che cambierà la vita di tutti voi Un applauso Un applauso Grande grande complimenti Vi mostro l'oggetto che abbiamo appena inventato Il suo nome è Che tutto sto casino Tutto sto casino Per un pezzo di ferro Ma mantenete la calma Capisco il vostro stupore Adesso vi spiego Cosa può fare questo oggetto per voi Per migliorare la vostra vita di merda Guardate come gira Eeeh Io sono scavato Se voi equipaggiate il chisel E premete il vostro destro Ok Potete selezionare un oggetto E poi cambiare la sua forma Ad esempio Se prendiamo del pietrisco E lo utilizziamo con il chisel Può diventare qualsiasi altro tipo di pietra Facciamo un test dottore Ma non è cambiato niente Scusi No 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 Ascoltate Si fa dall'inventario Ah ok Ora il chisel Premi il coso destro Il diesel E ora metti un oggetto E cambia la sua forma Fate salire qualcuno di più intelligente Posso provare io Che un c'è 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 Bene Ora torna in mezzo ai tuoi amici Che ti vogliono tanto bene Fatto Bravi Mi fanno male le orecchie Mi fanno male le orecchie Mi ha vinto anche oggi Vincere la c***a Che schifo Che ha dato di voi Ma funziona anche con il legno Grazie per Robonzo Per aver fatto la dimostrazione Da 1 a 10 Quanto impatterà con la lotta contro il male Questo oggetto Farà una grandissima differenza Perché quando il male vedrà Che le mura sono fatte di pietra E poi noi grazie al chisel Cambieremo la skin E diventerà di un altro tipo di pietra Il male sarà così confuso Che non capirà più niente E noi faremo Complimenti 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 Ho ancora un altro annuncio Ascoltate Da questo momento È necessario Che ci sia un leader Perché siete troppo indisciplinati Io sono il vostro nuovo capovillaggio E questa È la mia nuova legge Questa è dittatura È dittatura È dittatura È dittatura È dittatura Io ero d'accordo Io ero d'accordo La prima cosa che vi dico È che quando mi disobbedirete Io vi ucciderò Mi stenderò a terra Mi ha convinto E mi schianterò come delle formiche Ma non ho intenzione di farlo Quindi Se voi vi comportate bene Io sarò il leader migliore Che voi avrete mai avuto Inoltre Come ogni bravo leader So fare un bacco Ma sa fare anche il front Front flip Il front flip Solo i grandissimi leader Lo sanno fare Questo è inaspettato Pazzesco Leader leader Non è la domanda Sarete messi alla prova Ma sono schifo Ma c'è vero Ma dove 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 Oddio Oddio ma cos'è Oddio 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 E niente, direi che si torna a costruire la pipo casa Ah, aspetta, il chisel, il chisel, il chisel, il chisel, il chisel Uno, due e tre, mi pare, vero? Yes, questo è il chisel E ora, se faccio così e metto dentro la cobblestone Questi sono brick di cobblestone, però Non sono stone bricks, devo comunque cuocerla E vabs Dica Salve No, ma tu che cazzo vuoi? Ma ti pare che parlo con uno senza capelli? Ma anche, ma nemmeno lui ce li ha Io sto parlando con il signor Verde Ma anch'io c'ho la cravatta verde, guardi Aspetta, ok, capisco che le senza amici Ok, ma non si può collare così Però i suoi capelli sono verdi, effettivamente E comunque voi siete letteralmente in mezzo al cazzo in questo momento Ok, leggermente fuori dal cazzo, guardi Perfetto, benissimo Quando diventare grande è giusto per curiosità, nel senso Ma 45-50 blocchi Porco due Gigantesco Eh, vabbè, è la media, dai Falve Perché mi... E priverò un fondefiderio Suggimi le palle, è lo stesso di prima, non è Falve Signor Nova Lei ha i pugni nelle mani Allora, io sono un aesthetic designer Guardi, guardi Prima che mi picchi Prima che mi picchi Oh, in effetti Sa che ha un perché, visto così Eh, appunto Bello, mi piace Ecco, le offro questa consulenza gratuita, va bene? Grazie per la consulenza gratuita Ora può levarsi dal cazzo e dalle palle Salve, c'è permesso qui No, il signor permesso non c'è Passando da qui ho visto Irrigersi questa bellissima struttura Eh, lo so Salve, piacere Piacere, chi è lei? Detective Ciccio Sono io Detective Ciccio Salve, Detective Ciccio Mi dica... Offro una consulenza gratuita In caso di qualsiasi problema Come mi posso procurare un guinzaglio? Potrei forse fornirne uno Grazie Sarà un po' caro Eh no, me l'hai detto Tu che è gratuito Io non lo voglio allora Arrivederci Consulenza Arrivederci Gratuita Arrivederci Chiedendo in cambio qualcosa Arrivederci Era l'obiettivo della consulenza Quello Vabbè Coglione Lei è un taccagno E anche pelato Smetta di dire la verità Questi sono tutti così Ti scammano Sono peggio dei fuffaguru Vabbè Ma Manu io non ho ancora un ruolo ben definito Per ora sono soltanto un appassionato di animali E creature strane E la mia intenzione è collezionarle H Aprire uno zoo Era palesemente eme regà Come avete fatto a non riconoscere Era palesemente eme Come sembra da lontano Come appare Insomma Mi sembra una dimensione giusta Quella del fallo No? Signori scusate Posso interrompervi un attimo? Certo Certo Secondo voi il cazzo è sproporzionato alle palle? Sì No per me è perfetto Va bene grazie Scusate Mi lascio fare le vostre cose Scusate Ma che cazzo? Ma cosa cazzo ho appena visto? Leo Per caso tu hai un guinzaglio da prestarmi Eh sì Te lo posso riportare dopo eh Giur mi serve giusto per qualche minuto Va bene di solito lo uso Io nei weekend con la ragazza No no io lo uso da soli invece Autosfis E' erotica C'è anche il collarino Ecco Eccolo qua Grazie mille Leo Te lo riporto più tardi Al massimo te lo metto in questa cesta Vai vai Che carino Leo Mi hai disparviato un sacco di tempo E di bestemmio Perché ora posso portarmi a casa In tutta calma Il buon Rolando E il suo cucciolo di sperma Ok, Rolando c'è ancora Fanculo, fa malissimo Aia Mi sa che devo uccidere il suo cuccioletto No, Rolando Rolando Ok, scusami Rolando Tu uccidere il tuo cucciolo di sperma È successo, ok? Vieni Rolando Non urlare, Rolly Ha solo un po' d'acqua Lo so, fa schifo anche a me Per quello che non faccio mai la doccia Muoviti No, 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 no Lasciate stare È il mio Rolando È il mio bimbo, è Rolando Ha trovato una mandragola? Sì, è Rolando Mandragola Il centrocampista della Fiorentina Madonna, ma è impazzitissimo Piange come un tifoso della Juve, cazzo Sesta di cozzo Ho detto mille volte di fare il bravo, coglione Questa è casa tua Benissimo E così Gli urli vennero chiusi in cantina Prima o poi gli troverò un Un posto dove tenerlo Però per ora va bene se sta lì Direi che potremmo andare Un attimino in caverna Per poter prendere quel dannato diamante Che ci manca per inciantar roba E poi andare a fare altra pietra Per poi, capito no? Che al mercato mio padre comprò Dai, andiamo Dai, una cazzo di cave Per favore Perché con Minecraft 1.19 È stato impossibile trovare delle cave? Da quando non ho rifatto tutto quanto Il sistema di caverne Dal caves and cliffs Minchia, non si trova più un cazzo Alleluia Pro Oh, 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 oh Il maligno Il maligno Il maligno Il maligno Il maligno Il maligno Sono stato ucciso dal maligno No, lo yuppie È vero Così facendo ho perso Definitivamente lo yuppie Teoricamente Se ho perso Ho perso tutto Sì Ho preso la spada Ho preso tutto quello che avevo No, non c'è il tempo di despawn Perché le cose non despawnano fisicamente Sono chiusa all'interno Diciamo di un Come dire Un piccolo sarcofago Iuppie Il maligno Sembra essersi levato dal cazzo Continuiamo a esplorare queste zone Magari davvero appaiono Due o tre diamanti Iuppie 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 Un saluto a Mirko Povero uomo Iuppie Che culo Quindi se muori una volta Rimane il loot Diciamo conservato in una cassa Se muori una seconda volta La cassa si rompe La prima delle due E tu hai un tot di tempo Per recuperare gli item Bellino E così ci sta Oh che succe No 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 E' il maligno 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 Fugo 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 Ma no ma davvero Voi vedete così senza occhiali Che fastidio la vita che deve essere Mi spiace raga Ehm Ok Off camera vedrò un attimino di Prendere tutto quanto il materiale Ma E' giunto il momento di quittare No ora devo andare a vedere Scusatemi eh Affanculo Bon ho dato per oggi E' finita così Perfetto Addio E' finita così E' finita così